Allora, essendo che io ho parecchi problemi di memoria da sempre, sono arrivata a un punto che non riuscivo più ad organizzare le mie giornate, perché proprio mi sembrava di avere tutto insieme nella testa e non riuscivo a dividere le cose e ad organizzarmi. Allora, essendo che io ho Google Home, sono riuscita ad escogitare una cosa che in realtà esisteva già, però con varie richieste alla chat di Google sono riuscita a fare in modo di mettere delle routine che settimanalmente io posso modificare in base agli impegni che devo fare o comunque qualsiasi cosa che mi viene in mente di fare e che per me in quel momento devo farlo. E lo trovo molto utile, infatti mi ha dato parecchie soddisfazioni questa cosa e la voglio condividere con voi così magari qualcuno, anche che ha problemi un po' più seri di memoria, magari può trarne del beneficio. Cambiamo inquadratura. Il dispositivo di cui parlo è questo, ma immagino che lo conoscete già tutti. E praticamente adesso vi faccio vedere proprio anche semplicemente sul cellulare come bisogna fare, perché in pratica bisogna scaricare l'applicazione, che immagino che moltissime ce l'hanno già, però comunque è semplice ed è pure gratuita. E poi vi faccio vedere quello che potete fare. Lui ti ricorderà le cose che devi fare all'ora in cui le devi fare e il giorno che le devi fare. Allora, essendo che non riesco a fare la registrazione da video, la registrazione dello schermo, perché fondamentalmente non sono capace, ve lo dico a voce, tanto penso di essere abbastanza chiara, poi se avete qualche problema me lo dite. Allora, bisogna cliccare sull'icona, va bene, innanzitutto, sull'applicazione. Poi dovete cliccare sull'icona a forma di cerchio in alto a destra, quindi dovete aver fatto una registrazione ovviamente gratis. Poi clicchi su impostazione assistente, poi routine, poi clicchi su nuova, nuova, li metti il nome della routine, sarà quello che compare nella vostra lista. È comodo perché vi permette di capire subito quale cancellare senza doverle aprire tutte. Poi clicchi su aggiungi comando iniziale e lì ti chiedi di inserire l'orario e la data. Le caselle blu saranno quelle attive. Niente, vi vieta di fare anche tutte le caselle in modo da avere la stessa routine tutti i giorni. Tenete presente che comunque va da lunedì alla domenica, quindi una volta a settimana dovete fare un giretto nell'applicazione e togliere quelle che non vi servono più o aggiungere quelle che serviranno per la settimana dopo. A questo punto si clicca in basso a destra, aggiungi comando iniziale, a questo punto sempre in basso si clicca su aggiungi, azione, poi comunicazione annunci, poi su fai un annuncio e a questo punto devi ricordarti molto importante di salvare, quindi premi in basso a destra su fine e poi sempre in basso a destra su salva. Grazie. Grazie.